faim siamo qui per bangla la serie ma innanzitutto come è nata l'idea di fare anziché un sequel cinematografico del tuo fortunatissimo film di farne una serie di buffo e ma guardare in verità c'è dopo il servizio di nemo e quindi quando sono stato chiamato dalla fandango e manuare scaringe l'inizio ha proposto proprio di farci una serie quindi era l'embrione era già all'inizio però poi laura paolucci ha proposto di fare magari un piccolo film per poi poterlo venderlo come una serie da lì che è nato fondamentalmente quindi l'idea c'era sempre stata questa serie è appunto un autentico sequel del tuo film e quindi per quello che si può raccontare che cosa accadrà al tuo personaggio ea quello di asia che noi sappiamo essere soprattutto nel tuo caso coinvolto con questa prima volta che si fa non si fa c'è problema a farlo non c'è problema che cosa possiamo raccontare ma guarda il personaggio di suicida no non è vero balzai è quello noccio della questione sempre quello no che rimane l'amore il sesso quindi diciamo che farà da tirante per tutta la stagione in più diciamo che quello che posso dire che ci saranno dell'introduzione di nuovi personaggi come quello di sumaia quindi se nel film avevamo raccontato il punto di vista maschile c'è anche l'idea di raccontare il punto di vista femminile da parte delle seconde generazioni ma anche il punto di vista femminile da parte di asia quindi andare a scoprire di più anche il suo mondo e anche quello di raccontare le prime generazioni e quindi le difficoltà che hanno soprattutto loro no perché magari non è semplice farle vedere quindi diciamo che parte tutto da lì e quindi però introdurremo anche per esempio un evento interessante che è che il mese del ramadan quindi come funziona il digiuno e quindi questo farà da tirante per gli ultimi episodi ecco ecco tra l'altro faim e sumaia sono abbastanza diversi con il personaggio quindi raccontaci in che cosa differiscono perché somma è molto più tradizionalista no rispetto a faim anche se poi comunque è una bellissima sono quindi potrebbe avere anche molte più occasioni rispetto a te no se si 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 l'idea era proprio quella no di creare un personaggio da un carattere molto forte no che abbia rispetto a faim no che che tenga abbia più polso nel tenere alle regole quindi c'era proprio l'idea di creare un contrasto tra il fatto che comunque lui avesse un desiderio di uscire da quella da quel recinto che comunque l'avrebbe costretto a stare nella mentalità della sua comunità d'origine rispetto a sumaia che gli episodi successivi vedremo che anche lei avrà un cambiamento e chissà se avrà i stessi desideri di faim ecco ecco l'impostazione invece della serie rispetto al film vi ha dato anche la possibilità insomma di come dire di avere più tempo no per sviluppare per sviluppare c'è alcune tematiche visto che comunque gli episodi durano sì mezz'ora ma comunque è molto più dilatato il tutto rispetto al film quindi che cosa in questa prima stagione avete voluto nello specifico dilatare ecco rispetto al resto ma sai abbiamo voluto dilatare di più sicuramente i personaggi e quindi non solo focalizzarci sulla parte più amorosa però andare a scoprire le origini di faim e della sua famiglia quindi andare su su quel lato lì entrare di più nelle case infatti magari rispetto al film c'è c'è meno torpigna però ci sono più situazioni legate ai ai personaggi quindi abbiamo più voluto ampliare quei mondi lì ma anche dei personaggi secondari quindi abbiamo cercato di è stato difficile trovare come dire no un equilibrio nei 25 minuti però speriamo che ci siamo riusciti ecco e a proposito hai citato torpigna dopo il successo del film quale qual è stato il feedback insomma appunto del tuo quartiere e eh e qual è stato soprattutto il il complimento più bello che hai ricevuto dai dai tuoi diciamo con come si può dire conterranei con cittadini ed entrambi con quartierare non so se c'è un termine per dire eh no eh sì torpignesi eh no guarda ti dico la la no le persone del quartiere hanno tutti apprezzato quindi insomma se mi vedi ancora vivo quindi vuol dire che credo che sia così eh da parte della comunità io all'inizio avevo molta paura perché ho detto magari sai un po' l'ironia e quant'altro può offendere qualcuno invece eh la fortuna è stata che hanno reagito molto bene hanno detto per fortuna che eh siamo molto contenti e perché qualcuno della nostra comunità è riuscito ad arrivare così in alto e rappresentarci quindi devo dire per ora tutto alla grandissima sono molto felice. Per chiudere ti chiedo invece cosa speri che venga apprezzato di questa nuova serie in particolare? Ma sai io spero che cioè non non ho aspettative nel senso che io spero che si possa conoscere ecco dei dei mondi diversi io non dico che li devi necessariamente accettarli però sapere che esistono e quali problemi incorrono determinate le persone. Quello sì dire ok io ti posso empatizzare ecco piuttosto che eh quindi io spero questo e magari farsi due risate ecco fondamentalmente. Perfetto va bene allora io ti ringrazio e quindi l'appuntamento è diamo l'appuntamento sia per RaiPlay che per Rai3. Eh allora RaiPlay è da domani il 13 aprile e e poi eh su Rai3 eh andrà in onda in un preserale il 27. Perfetto quindi non ci sono scuse non potete perdere. Perfetto grazie allora e complimenti. Grazie a te.